Tezze sul Brenta. È stata ritrovata l'auto di Paolo Roncato, il 54enne albergatore, il cui corpo privo di vita è stato ritrovato nelle scorse ore a Punta Sabbioni, a Jesolo. Le forze dell'ordine, dopo aver incrociato i dati delle celle telefoniche, hanno visto l'auto parcheggiata di fronte alla terrazza mare. I familiari, visto che Roncato soffriva da tempo di cuore, hanno rinunciato all'autopsia. Domani alle 17 nella chiesa di Belvedere di Tezze e i funerali dell'albergatore.